19 giugno tutte le cose che domanderete in preghiera se avete fede le otterrete matteo 21 22 la preghiera tutti conosciamo e certamente almeno una volta nella vita abbiamo avuto a che fare con i distributori automatici a volte consideriamo il signore simile a queste macchine non rendendoci conto che così facendo non soltanto svigliamo la figura bellissima che ci è già dato di dio quella di un padre amorevole verso i propri figli ma dimentichiamo due importanti condizioni che il maestro ha stabilito nel versetto di oggi la prima ed essenziale condizione è quella di chiedere ogni cosa nella preghiera la preghiera non è come pensiamo comunemente il rivolgersi a dio nei momenti di bisogno ma è l'espressione più intima del nostro rapporto con lui nella preghiera siamo così vicini al trono della grazia che siamo interessati soltanto alla gloria di dio l'altra condizione la fede senza la quale è impossibile piacere a dio elemento essenziale non soltanto per credere nella risposta del signore ma soprattutto per vivere una vita pienamente realizzata e gioiosa in cristo per vivere una vita pienamente realizzata e gioiosa in cristo